Cari amiche e cari amici, vado a concludere rapidamente la vita di Mircea Eliade perché mi sono reso conto che nel primo video mi sono dilungato un po' troppo. In questo video concluderò la vita e poi siccome anche l'esperienza e le ricerche che ha fatto Eliade relativamente alla tradizione, ai miti, sono talmente complesse, darò dei brevi accenni giusto per stuzzicare la vostra curiosità, sperando che poi possiate riprendere individualmente il vostro studio. Allora, riprendiamo da dove ero rimasto, 1930, Mircea Eliade si sposta nella casa del professor Dasgupta, il suo professore indiano, scrive di restare affascinato proprio da tutta la meraviglia dell'India dal punto di vista spirituale, dal punto di vista delle tradizioni e dice di adorare tutto, dalla lingua, al clima, agli uomini, al paesaggio, al modo di comportarsi, ai costumi, ai cibi. Questo è quanto scrive Eliade. Però a un certo punto il professor Dasgupta, che lo ospitava, scopre la relazione di Mircea con sua figlia. Quindi si arrabbia moltissimo e impone a Mircea Eliade di lasciare casa. Eliade andrà sull'Himalaya, resterà lì dei mesi, studierà yoga, praticherà yoga con Swami Shivananda, che è un medico praticante yoga che ha scritto oltre 300 volumi. Guarisce attraverso la pratica dello yoga i problemi di salute che aveva. Nel frattempo la borsa di studio a Calcutta gli viene rinnovata per un altro anno e approfondisce lo yoga, il tantrismo e continua con una molteplicità di interessi culturali incredibili. Alla fine della guerra mondiale si trasferisce a Parigi, dove rimane fino al 1956. Qui a contatti con i maggiori intellettuali del tempo fu anche invitato da Jung a partecipare a una serie di conferenze nel 1950. Però conduceva una vita difficile da esule. Lui era stato, come vi ho detto, in prigione vari mesi, in quanto legato alle idee della guardia di ferro di Codreano, uno del fascismo rumeno. Comunque dal 1957 la sua attività ufficiale fu di professore di storia delle religioni all'Università di Chicago, però continuò a viaggiare moltissimo, a pubblicare moltissimo, dal 1960 al 1972 con Junger, dirige una rivista Antaios di storia delle religioni e continua con molteplici attività, ma che devo necessariamente tagliare. Morì a Chicago il 22 aprile del 1986. Ecco, vi dicevo, rispetto alle concezioni mitiche, sono estremamente complesse. Io vi darò giusto alcuni spunti, perché è sterminato l'interesse di Eliade e anche i suoi studi, le sue opere, i suoi saggi, bellissimi. Il centro della riflessione di Mircea Eliade è la religiosità arcaica, e in particolare la concezione ciclica del tempo, la concezione circolare del tempo. Scrive un libro famosissimo che si trova anche qui in Italia, Il mito dell'eterno ritorno, e racconta l'impatto anche emotivo che ha provato proprio nel studiare le culture tradizionali, quando si è trovato di fronte al loro rifiuto del tempo storico, a questa profonda nostalgia delle origini che riporta queste civiltà, queste culture, a un periodico ritorno al tempo iniziale, a quello illo-tempo, in quel tempo dove tutto ha origine. Ora vi leggo le parole scritte direttamente nel libro. L'essenziale della mia ricerca riguarda l'immagine che l'uomo delle società arcaiche si è fatto di se stesso e del posto che occupa nel cosmo. La differenza principale tra l'uomo delle società arcaiche e tradizionali e l'uomo delle società moderne, fortemente segnato dal giudeo-cristianesimo, consiste nel fatto che l'uomo arcaico si sente solidale con il cosmo, con i ritmi cosmici, mentre l'altra tipologia di uomo si considera solidale solamente con la storia. Questo è quanto scrive. E questa attitudine di rifiuto dello scorrere concreto del tempo profano notò Eliade che porta a una valorizzazione metafisica dell'esistenza umana. Nelle società tradizionali e arcaiche tutto era sacro, qualsiasi cosa veniva sacralizzata, e non come la società moderna che desacralizza qualsiasi cosa. E Eliade disse proprio che la filosofia occidentale rischia di provincializzarsi, sia perché si chiude nell'ambito della sua tradizione, che ritiene essere superiore a tutte le altre, e poi anche perché ignora e non approfondisce i grandi problemi, la profondità delle soluzioni che si ritrovano nel pensiero orientale. Inoltre, questo disprezzo che ha di quello che definisce uomo primitivo, va bene? E Eliade scrive queste parole. L'antropologia filosofica avrebbe qualcosa da imparare dalla valorizzazione dell'uomo presocratico, ossia dell'uomo della tradizione. ha dato la sua situazione nell'universo. O meglio, i problemi principali della metafisica potrebbero essere rinnovati dalla conoscenza ontologica arcaica. Questo è quanto scrive, seppur ho letto male. Comunque, Eliade esamina alcuni aspetti fondamentali dell'ontologia arcaica, la concezione dell'essere e della realtà, il cosiddetto comportamento dell'uomo primitivo. E poi si occupa della forma mentis, in fondo, di come utilizzavano questi uomini del perché di determinati rituali, di determinati comportamenti. E nota che le concezioni metafisiche nel mondo arcaico non sono ordinariamente espresse in un linguaggio teorico, ma attraverso i simboli. E dunque il mito, il rituale, e questi rappresentano generalmente un sistema ben strutturato di affermazione sulla realtà ultima delle cose. Eliade definisce i miti come tradizione sacra, come rivelazione primordiale, come modelli esemplari. E ci dice, vi leggo le sue parole, il mito scopre una regione ontologica e inaccessibile all'esperienza logica superficiale. Il mito esprime plasticamente e drammaticamente quel che la metafisica e la teologia definiscono dialetticamente. Dunque nobilita moltissimo il mito. Evidenzia che nel comportamento dell'uomo arcaico tutti gli oggetti del mondo non hanno un valore intrinseco, autonomo, ma sono legati a un'armonia superiore e partecipano a una realtà che li trascende, anche gli oggetti che noi potremmo definire più banali. E per spiegare questo concetto vi vado a leggere sempre cosa scrive Eliade rispetto alle pietre, per esempio. Scrive, In mezzo a tante pietre una pietra diventa sacra perché costituisce una manifestazione divina o possiede una forza sovrannaturale o la sua forma mostra un certo simbolismo o anche perché ricorda un atto mitico e così via. L'oggetto appare come un ricettacolo di una forza esterna che lo differenzia dal suo ambiente e gli conferisce senso e valore. Questa forza può risiedere nella sostanza dell'oggetto o nella sua forma. Una roccia dunque si rivela sacra perché la sua stessa esistenza è manifestazione divina. Incomprensibile, invulnerabile, la roccia è ciò che l'uomo non è. Essa resiste nel tempo e la sua realtà si riveste di perennità. Una pietra, delle più comuni, sarà promossa preziosa, cioè impregnata di una forza magica o religiosa solamente in virtù della sua forma simbolica o della sua origine. Pietra di fulmine che si suppone caduta dal cielo, perla poiché viene dal fondo dell'oceano, ma anche altre pietre diventano sacre perché considerate dimore degli animi e degli antenati oppure perché furono un tempo il teatro di una manifestazione del divino perché un sacrificio o un giuramento le ha consacrate. Pensate che bello, questo è solo rispetto a una pietra. Che meraviglia, no? È l'uomo moderno che disprezza tanto le società arcaiche. Guardate che patrimonio immenso. Dunque, il valore degli atti umani non è legato a un dato fisico brutto, ecco, la pietra, no? Ma proprio al suo aspetto simbolico, a quella qualità di riprodurre un atto primordiale, proprio di ripetere un modello mitico. Ma questo in tutto. La nutrizione, per esempio, scrive Lillade, che non è che rappresentava una semplice operazione fisiologica come oggi, ma era un atto sacro che rinnovava la comunione con le forze vitali. E' così il simbolismo del centro. Scrive delle pagine bellissime. Il centro è il punto dove avviene una teofania, cioè la manifestazione degli tei, cioè dove si manifesta il sacro. e si verifica un'apertura del mondo alto con quello basso. Insomma, le tre regioni cosmiche diventano comunicante tra loro. E quel luogo, che non è un luogo geografico, ma esistenziale e metafisico, che spesso viene identificato con luoghi geografici, diventa un centro dove scaturisce l'energia vitale. Dunque, il centro, per la società tradizionale, è la zona sacra per eccellenza. Il centro è l'origine, il punto di partenza di tutte le cose, è il principio e la fine di tutte le cose nelle società tradizionali. L'universo nasce dal suo proprio centro, si estende dal centro, ossia dal suo stesso ombelico. E da questo quadro cosmico derivano tutta una serie di credenze, di miti. Poi qui avevo notato, ha notato anche tutta un'altra serie di miti che adesso non faccio in tempo a leggervi, ma mette in relazione gli alberi della vita, le fonti di immortalità, sempre con il centro. E poi ci dice che l'uomo deve ritornare al centro e la via che porta al centro è piena di pericoli. E così ogni spazio consacrato si identifica con il centro del mondo. Il tempo presente in cui si effettua ammette la costruzione di un tempio, ma anche di una casa, perché tutto era sacro, è uno spazio consacrato e sempre proiettato in illo tempo, nel tempo mitico. E c'è una continua ripetizione di ciò che gli dèi avevano fatto all'inizio e che gli esseri umani riprendono senza posa, creando nuovamente. E voglio concludere con i riti matrimoniali, che come tutti gli atti degli antichi, delle società arcaiche, avevano un modello divino. Pensate quanto è lontano quello che vi vado a leggere adesso dalla concezione moderna del matrimonio tra uomini e donne, tra donne, tra lesbiche, pensate alla profondità delle società arcaiche. Cioè i riti matrimoniali hanno un modello divino, riproducevano un modello divino. Il matrimonio imita una ierogamia. Cos'è una ierogamia? È un rito che rievoca le nozze tra gli esseri divini o in ogni caso tra esseri sovrannaturali delle origini. L'unione anche tra il cielo e la terra e quindi la generazione dei figli in questo contesto è il ripetersi della relazione cosmica e quindi questa ierogamia si ripete ogni volta che è imitata. Ecco il senso sacrale della sessualità e ogni volta che l'unione matrimoniale si compie l'uomo ripete l'azione creativa degli dèi e da lì che nasce il figlio ripetendo la creazione degli dèi e il matrimonio rigenera la natura e dona fecondità opulenza e l'analogia tra l'atto sessuale e il lavoro dei campi è anche molto frequente in tantissima e nella maggior parte delle culture tradizionali. e la primavera ad esempio il momento della rinascita e così via e così l'unione matrimoniale è un rito rigenerativo che si integra al ritmo cosmico e in generale nel mondo antico non ci sono attività profane tutto è sacralizzato tutto è sacralizzato è il mondo moderno che desacralizza tutto e pensiamo come si è ridotto il matrimonio dei cosiddetti moderni delle cosiddette persone libere rispetto a questa profondità di visione delle società arcaiche integrate con l'intera esistenza un caro abbraccio a tutti Marco Cosmo